al sonetto segue la parte in prosa che costituisce la conclusione della vita nova dopo questo sonetto appresso questo sonetto mi apparve una visione miracolosa e straordinaria nella quale io vidi cose che mi fecero decidere di non scrivere più poesie per questa donna beata fino a quando non fossi stato in grado di trattare di lei più degnamente e per arrivare a questo risultato mi sforzo quanto più possibile come lei sa per certo pertanto se piacerà a colui che è la meta verso cui tutte le creature vivono cioè dio che la mia vita duri per alcuni anni io spero di arrivare a dire di lei ciò che mai fu detto di alcuna donna e poi voglia il re della cortesia cioè dio in quanto dispensatore di ogni virtù che la mia anima possa andare a contemplare la gloria della sua donna cioè di quella benedetta beatrice la quale gloriosamente contempla il viso di colui che è benedetto per tutti i secoli ma la mano ma la mano ma la mano Grazie a tutti